Roberto Rossi non sarà più alla guida della Procura della Repubblica di Arezzo, il suo incarico infatti non è stato confermato. Lo ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura a maggioranza, 16 voti a favore della non conferma nell'incarico direttivo, 4 invece per la proposta sulla riconferma, mentre si è senuto il primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone. È così passata la delibera di maggioranza, il cui relatore Pier Camillo Davigo, secondo il quale Rossi avrebbe compromesso il requisito dell'indipendenza dai propri condizionamenti, almeno sotto il profilo dell'immagine, e questo per aver proseguito l'incarico di consulenza presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, che gli era stato conferito con il governo letta e confermato poi dal successivo esecutivo guidato da Renzi, anche dopo l'apertura dell'indagine su Banca Etruria, del cui Consiglio di Amministrazione faceva parte Pier Luigi Boschi, padre dell'allora ministro Maria Elena. A questo punto Rossi resterà in procura, ma come semplice sostituto, mentre nella funzione direttiva subentrerà il sostituto più anziano, Elisabetta Iannelli, che terrà l'incarico sino a quando non sarà bandito un nuovo concorso e il CSM non avrà nominato un nuovo procuratore. A meno che Roberto Rossi non vinca il ricorso al TAR, nel quale chiederà la sospensiva del voto del Consiglio Superiore della Magistratura, e in quel caso sarebbe automaticamente reintegrato in carica in attesa della decisione nel merito, sempre da parte del TAR del Lazio. Già dunque oggi il procuratore lascia l'incarico. Nei giorni scorsi erano arrivati tanti attestati di stima da parte di colleghi della Procura, del Tribunale, avvocati, personale del suo ufficio e persino dagli azzerati della vecchia Banca Etruria. Tutti gli riconoscevano di aver svolto il suo ruolo con capacità e onore.